Pateria mobile eliminata Pateria mobile eliminata Pateria mobile eliminata Specialista incendiario a terra Soldato a terra Pateria mobile eliminata Pateria mobile eliminata Pateria mobile eliminata Pateria mobile eliminata Pateria Pateria Un avvio stile individuato. Il storm nemico in arrivo. Un avvio stile individuato. Adesso ci ritentiamo. Un avviso il disturbo nemico in sorvolo. Radar disattivato. U.A.V. ostile in sorvolo Appropigionamento in arrivo U.A.V. alleato in arrivo U.A.V. di disturbo in arrivo Appropigionamento in sorvolo 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 UAB alleato in arrivo, HC-XD in uso, approfiggionamento in arrivo, uccisione. Grazie. 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 Granata verso di noi. A segno. Attenzione, guarda il nemico in arrivo. Troppo tu ucciso. Sì, guarda il nemico in arrivo. Sì, guarda il nemico in arrivo. Sì, guarda il nemico in arrivo. Attenzione, HCXD nemico localizzato. Sì, guarda il nemico in arrivo. Sì, guarda il nemico in arrivo. approvvigionamento in arrivo pessima prestazione cdp rientrare black ops nell'area attenzione tu avvi nemico in arrivo attenzione tu avvi alleato in arrivo tu avvi ostile individuato attenzione Sì, sì. HGX di nemico nell'area 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 HGX di nemico nell'area